Ciao a tutti, oggi faccio la seconda parte del video delle gare. Allora, nella prima parte non ho parlato perché volevo provare a fare questa cosa e mi è venuta abbastanza bene, però mi sembra strano non parlare, quindi parlo. Allora, iniziamo, anche se non ve l'ho detto, però l'avete visto, questa è la mia nuova cannolina di nome Molly, perché se avete visto la mia prima parte potete vedere la descrizione di Molly. Allora, ve la faccio rivedere. Molly ha 731 punti amore e amicizia, è una femminuccia molto curiosa per l'iniziativa, scusate, è una femmina, è una Yorkie serie, non so pronunciarlo, vabbè, è una copertura normale, non ha sete, però ha un po' di fame e ha il proprio grido. i comandi sono siediti, la giampa, l'altra terra, morto perché sarebbe dormi, solo che dormi lo confonde con Molly e quindi ho deciso di mettere morto, perché si potrebbe anche chiamare così. vabbè, poi gira, pancia, due zampe, salta, per favore, alzati, risulta, sanuto e basta. e di risultate gare tutti i primi. In questo è la coppa di lettanti, in questo è la coppa principianti. bene, vabbè, poi ho fatto vedere sia l'illemima che conoscevate già, sono aumentati solo i punti e vabbè, adesso non sto a farveli rivedere, si metteremo troppo. Allora, adesso in questo, vediamo se si vede meglio così o poi o così. No, si vede meglio così. Così, così non so vedere la sedia. Vabbè, allora, adesso andiamo all'albergo a prendere Fox, che cambierò con Lilla. E faremo le gare con Fox. Allora, adesso scambiamo Lilla. Credo che voi, ah sì, della mia foto del canale avete visto Fox, ma non l'avete mai visto, in realtà. Facciamo dei miei video. Ecco. Guardate, non ho sconso video che tosse mi era venuta. Ecco qua. Nelle gare starò zitta. Tranne in quella di... Sì, questa. Che stai bloccato? Ah, questo è Fox. È bello, un polpino di pomera. Vediamo, mi sembra che sia... Un deco come petino. Allora, guardate, che vi faccio vedere. Allora, Fox ha 4263 punti. Amici, sei amore. O punti normali. Non so cosa sono, perché io guardavo questo. E... È iniziato il mio primo cane. E tutti amano questo terrabile maschietto. Viene di allegria e vivacità. Chiudi. Fox. Fox. Polmina di pomeriggia. Maschietto. Non guardate questa condizione. E' delutrito. E' splendente il pelo. Quei comandi che sa sono... Siediti la zampa. La volta di te. Lì, scendolini dove li hai? Sono dentro al coso, dopo li temi. Scusate. Dormi, gira. Pancia, due zampe, santa. Per favore. Siediti il suo. Tarnut, chiediti, verticale e breakdash. Non sa udularlo, riesco a farlo imparare. E poi, se state care, Nintendo. Nintendo. Direttante. E' testato. Molto testato. Bene. Comunque vuol dire che Mimma, vedete, ha queste corone che sono destinate a Fox. Perché è lui che l'ha vinte. Va bene. Ma se faccio le gare? Con Fox. Prova dell'esco. Coppa del Pugapox. Che l'ha vinta. Vediamo se l'ha vinta. Scusate un secundio. Scusate un secundio. Scusate. Scusate un secundio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusate se non tenevo così circa, perché se no... Oh, basta. Non sento me. Vediamo se siete... Ma scusate se io voglio dire... Scusate se mettermi qua... Perché se no io non riuscivo a lanciare il disco... Adesso posso stare qui... Qua è abbastanza... Scusate per la mano... Scusate... 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 Scusate per questo rispetto pessimo... dopo dovrei comprarmelo credo una nuova casa alla stanza dove so con tutti i soldi che guardate vi faccio vedere quanti soldi ho aspetta vediamo se ha sete si ha sete intanto vi faccio vedere oh 6.567 vedete e dopo comprerò un altro cuzzo e poi avrò finito per sempre almeno credo forse non lo prenderò mai allora l'ultima gara è quella dell'OPP l'ultima gara l'ultima gara l'ultima gara allora l'ultima gara l'ultima gara l'ultima gara va abbastanza bene si vede dai nintendo va finissimo ci metterò un quarto d'ora ci metterò un quarto d'ora l'ultima gara l'ultima gara l'ultima gara l'ultima gara è questa l'ultima gara l'ultima gara due zampe Terra Stai, perché mi si è tolto? Vedi qualche volta Sbagliamo solo per questo Sì Siediti 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 Allora, vorrei dire che il mio fox E' testardo, ecco perché Maia Abbiamo 30 secondi Breakdance Verticale 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 Stai muto Stai muto Stai muto Stai muto Stai muto Tanto Ormai è bianca e adesso siamo Guardate che Stai muto 19 19 Mi dispiace Questa misera Le presentazioni Andrò a creare E' sempre abbastanza grande Vabbè, un pochino Di soldi Li fa La danniamo Bene Spero che questa seconda parte vi sia piaciuta Ehm Diciamo che potete chiedermi Se volete Tipo altri video di Nintendo Più che esso Potete chiedermi quello che volete Potete chiedermi Tipo Fare un video su Le passeggiate Su Non so C'ho già fatto Su Su altre gare Tipo E poi anche un giorno Tipo con Molly Faremo tutto con lei O se no Un giorno con Fox Un giorno con Mimma Un giorno con Lilla Un giorno con Birba C'è Mimma, Birba, Lilla Un terzetto perfetto E poi Potete chiedermi anche Un giorno con il mio nuovo cane Un giorno con il mio nuovo cane Intento che Quando lo avrò Che farò un video Me lo potete chiederselo dopo Se no anche adesso E Appena lo avrò Lo farò E Decidete Potete schiamarlo sotto i commenti Mandarmi un messaggio privato Fate quello che volete Se volete Dei video su Nintendogs Poi qualche volta Ogni settimana Farò un video speciale Su Nintendogs Non vi preoccupate E poi farò anche un video Su Nintendogs normale Non Nintendog Più che è questo Nintendogs che ho su una schedina L4 Non è l'R4 Un altro tipo di schedina Non so come si chiama Perché non ci sono i trucchi Quindi non è l'R4 Non c'è scritto nemmeno l'R4 E allora Lì c'è c'è Nintendogs normale Labrador e amici E ho due Labrador amici Due giochi di quelli E allora Vi faccio un po' vedere Un po' E Sto provando ad avere un cucciolo Vi faccio sapere Con un video Sull'auto E Bene Un saluto da Fox Da Molly E infine da Mimma E anche da Lilla Che si trova in albergo E un mia golio Una Delle fusa Da Birba Ciao Ciao E al prossimo video Ciao